Due bombe nel giro di quattro mesi, intimidazioni che partono da lontano 2009, aggressioni e minacce finite anche sotto processo. Non può dirsi certamente tranquilla la vita di Matteo Dingeo, coordinatore del Movimento Civico Liberatorio Politico, protagonista a Molfetta di un incontro organizzato nella sala consigliare per commemorare la figura di Gianni Carnicella, il sindaco barbaramente ucciso 26 anni fa, vittima del dovere e della mafia, come ricordano gli organi governativi. In questi giorni Molfetta si stringe attorno a Matteo Dingeo per dire no alla criminalità organizzata ed impedire che dopo Carnicella ci siano altri martiri della legalità. L'ultima bomba, quella della notte tra il 15 e il 16 giugno, è diversa dalla prima, quella di tre mesi fa, del primo marzo, perché il primo marzo l'hanno collocata giù al portone condominiale e questa volta invece hanno divelto il portone condominiale, sono salite al primo piano e hanno lasciato la bomba dietro la porta blindata del mio appartamento. Come dire se la prima volta il messaggio non è stato chiaro, questa volta che sia chiaro. Dingeo si è procurato molti nemici attraverso le sue denunce rivolte alla piccola e grande criminalità come ai colletti bianchi. La sua attività, dice, non si fermerà davanti a queste intimidazioni. Stasera in coincidenza con l'anniversario dell'uccisione del sinico Carnicella che noi ogni anno, diciamo, manteniamo come appuntamento per mantenere una sorta di memoria attiva su quello che attiva che accade in questa città dal 1992 ad oggi. E noi siamo stati sempre in un certo senso i protagonisti di questa memoria perché narriamo tutto ciò che le famiglie di allora che governavano la città e che erano implicate anche nell'omicidio di Gianni Carnicella continuano oggi ad esercitare una sorta di controllo del territorio e quindi noi ci permettiamo, tra virgolette, di osare di nominarli annualmente nelle nostre relazioni che facciamo pubblicamente. In questi giorni è stato presentato il report di avviso pubblico sulle minacce ed intimidazioni agli amministratori locali. La Puglia ha fatto registrare nell'ultimo anno una preoccupante escalation. Siamo quarti in Italia per il numero delle intimidazioni ricevute. Aumenta in modo sensibile la percentuale degli amministratori locali ma anche dei dirigenti, dei funzionali pubblici, degli assistenti sociali. Un numero che è sempre più dipendente dal malessere sociale che stiamo vivendo. Un malessere che però non trova canali di comunicazione, di sfogo. Abbiamo vissuto epoche, secondo la mia modesta analisi, in cui il malessere della gente si misurava nelle sedi politiche, nelle sedi istituzionali, si incanalava in progetti, in proposte e in metodi di partecipazione che oggi sembrano essersi smarriti e sembra che abbiamo smarrito la bussola della comunicazione politica e della educazione alla forma civile e alla società civile. Ecco perché la proposta del Presidente Lancia Nazionale, che è anche il Sindaco di Bari, sull'educazione civica nelle scuole, secondo me va esaminata con grande attenzione.